Lo Spirito Santo, forza degli Apostoli Gesù annuncia che una forza straordinaria sarà data agli Apostoli dallo Spirito Santo. Prima di risalire al cielo, il Signore dice agli Apostoli Voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Lo Spirito Potenza Infinita di Dio scende nella vita dei cristiani e li rende capaci di diventare missionari intrepidi e coraggiosi fino alla testimonianza suprema del martirio. Tertulliano dirà che lo Spirito Santo è allenatore dei martiri. Gesù, dopo aver ricevuto, vissuto, parlato dello Spirito, dona lo Spirito affinché l'uomo possa vivere da figlio di Dio in verità, in santità e in gioia, con un amore straordinario divino nel cuore. Si capisce meglio l'esigenza primaria di invocare lo Spirito affinché davvero la gioia del Signore sia la nostra forza, perché non c'è gioia più grande di quella di ricevere e vivere nello Spirito Santo. Lui è la festa infinita che Dio vuol donare ad ogni uomo, ad ogni creatura sulla terra. Amen.